Novità bomba a Milano. Vi farà impazzire quello che è stato annunciato. Ma prima di dirvelo, vorrei che lasciaste il tasto il mi piace per ricevere tutte le ultime notizie dal roso-nero Milan. La situazione di Rade Krunic è particolare e non è escluso che possa salutare il Milan già nella finestra di trasferimento di gennaio, secondo quanto riportato. Dopo aver firmato con l'Empoli nell'estate del 2019, Krunic ha trascorso la maggior parte dei suoi quattro anni e mezzo al Milan come giocatore secondario e come opzione di rotazione a centrocampo sotto Stefano Pioli. Tuttavia, in estate, quando il Fenerbahce ha manifestato il suo interesse e ha anche fatto delle offerte, Pioli ha deciso di metterlo letteralmente al centro del suo nuovo sistema 4-3-3, convertendolo in un ruolo di centrocampo difensivo. Se non hai ancora lasciato il tuo like, lascialo ora per continuare a ricevere notizie di prima mano da rosso-nero. Ora Krunic è tutt'altro che immobile, come dimostra il fatto che martedì sera è partito dalla panchina nella fondamentale sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. Come riporta calciomercato.com, anche le trattative per il rinnovo non stanno andando bene. C'è ancora una grande distanza oltre a Krunic e il Milan nella trattativa per il rinnovo del contratto, che scade nel giugno 2025. Non solo, ma se non si dovesse raggiungere un accordo nelle prossime settimane, si potrebbe aprire la strada per una cessione a gennaio, se dovesse arrivare l'offerta giusta. Ora tocca a voi, cosa ne pensate di tutto questo ditemelo nei commenti lasciando il vostro like e iscrivetevi al canale per continuare a ricevere i prossimi aggiornamenti sul Milan.